Daina? Nix? Ti ho cercata dappertutto. Dove ti eri cacciata? Nel bosco con un boa? Sì, ma ora è a spasso con un tasso. Hai sentito quel ruggito stamattina? Mi descrivi il ruggito in questione? Che tipo di ruggito era? Forte, terrificante e mostruoso direi. Gli animali fanno tanti versi. Come dire, ringhiano, latrano, ululano, gracchiano, stridono, ragliano... Faceva... così? No, un ruggito. Oh, una specie di... No. No! No! Daina! Sì, se senti un verso così, scappa. Mi passi quelli? Ascolta, questa cosa può essere una minaccia per la radura incantata. Se scopri che cosa hai messo quel ruggito, io devo saperlo. Sono stata chiara? Che cosa farai se la trovi? Il mio lavoro. E io farò il mio. couldificare dei video, incant workers, che per vino. C'è uno hockey, il nostro office dove più superi i suoiista nuco lo conduì. È un cube, che per lo pensare davanti... governo, è che cosa che ha dovuto?